Per favore, cinque minuti prima, su, eh? Non si può. Facissimo sto per le carità. Uffa! Voi di che partito siete? 300 di nuovo contesto, il posto a fortuna per la vostra squadra! Compratevi 300 di nuovo contesto, un distintivo da roba e 50 lire! 50 lire, ma accattatevi per 5 lire! 300 di nuovo contesto, la vostra squadra! Voi siete napoletani? Ma perché ve la dispiace? E vendete questa roba? Ah, ho capito, questi sono fatti a Napoli! Ah, come non deve, come non deve! Salute, paesano! Salute! E c'è, ma c'è! E c'è di nuovo contesto! Ecco la vencata! Bambola! Bambolo! Vai per lì! Eh, va bene! Su, sbrighiamoci, muoviamo! Vipiti! Senti, effettivamente di piacchi, ci dobbiamo fare una bella! E come va la vendita di piacchi? Mi raccomando, guarda, teniamoci alti, eh! Su, sbariella mia bella, entrasi tu! Oggi è giù, c'è bello! Sì, come c'è? È parlante! Chi ne ha presente? Questo è il dio dei portieri! Ma chi è? San Pietro! Ma guarda San Pietro! È casari del Napoli! Sì, vai! 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 Vogliamo aprire? Sì, vai! Sì, vai! Sì, vai! Sì, vai! Silenzio! Silenzio, ragazzo! Basta! Mettiamo a cosa sei! Ragazzi in piedi! Primo gruppo! Alto! Secondo gruppo! Alto! 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 Alto!